Bentornati ad SOS Arezzo TV, ogni tanto diamo anche delle buone notizie, siamo con Stefano Turchi, finalmente Stefano possiamo annunciare, dopo che tante volte purtroppo abbiamo dovuto dire i locali dello stadio non erano stati liberati per il Museo Amaranto, adesso è stato finalmente sgomberato. Cosa è successo? È successo che grazie all'impegno dell'assessore Nesini e anche di Matteo Nardi dell'Ufficio del Patrimonio, che si sono dati veramente da fare, il 12 dicembre 2017 finalmente il Museo ha avuto la sua casa. Siamo in attesa di avere le chiavi perché dovevano fare delle cose, però diciamo che è tutto pronto, non pronto il Museo perché ora inizia il vero lavoro, ci sarà da mettere a posto i locali, ci vorrà tempo, ci vorranno materiali, impegno fisico e impegno finanziario. Intanto voglio ringraziare voi perché questo è il momento di ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini, Arezzo TV, con te in particolare, ci siete sempre stati vicini in quest'anno, vicini quando si sono fatte le manifestazioni con il Calcita al Centro Affari, quindi è giusto ringraziare chi ci ha aiutato. E poi ecco un appello, già io comincio a farlo a tutti coloro che ci sarà bisogno di mano d'opera già per pulire i locali perché bisognerà dargli una pulita. Dopodiché una volta fatto il progetto a quel punto ci sarà bisogno di mano d'opera, elettricisti, tutto quello che sarà possibile. Quindi chi può darci una mano a tutti i livelli saremmo contenti se ci contattano e quindi iniziare finalmente questa avventura. È difficile fare previsioni perché del tanto c'è da fare. È difficile perché bisogna capire all'interno, noi locali l'abbiamo visti una volta, a parte la prima stanzina che ci avevano lasciato, che sul resto è tutto da capire quali possono essere i difetti, poi da capire anche formalmente quello, perché lì è stato costruito tutto, ma da capire se è regola o non regola. Prima di addentrarsi in un'avventura noi si fa tutto per hobby, tutto a scopo di lucro, ma non vorremmo che diventasse un problema poi per qualsiasi altra cosa. Per cui chiederemo un aiuto ulteriore alla Tiziana che si è accollata a questa avventura e capire come ci possiamo muovere a quel punto. I tempi non sono brevi, anche perché il nostro conto in banca è zero e quindi è stato bellino, ti dico ieri sera, ho chiamato Giorgio Perugia, che è il nostro presidente onorario, e mi fa ma le casse come sono ste? Dico guarda le casse piangono, ho capito, bisogna darsi da fare. Quando te lo dice una persona del genere ti apre il cuore, no? Ti apre il cuore, però questo diciamo che non ci spaventa. Una volta che ci siamo, vediamo, vediamo. Non sono tempi brevi, considerate che ci vuole un progetto, la fattibilità del progetto. Poi trovare chi ti sovvenziona, ci vorranno teche, ci vorrà... perché le maglie non le puoi lasciare appesse al muro così. Noi ci siamo dati un'occhiata intorno per capire gli altri musei come s'erano mossi. Cioè è meglio aspettare un mese in più, ma le cose che siano fatte per bene. Quindi l'augurio a questo punto che troviamo dei benefattori. È Natale, speriamo che qualcuno si muova. Avete avuto modo, forse ancora no, ci sarà modo di parlarne col nuovo presidente, perché questa cosa nasce, forse non è un caso, che nasce anche come tempistica, proprio nel momento in cui la Rezzo ha cambiato pagina e speriamo anche ambizione. Io devo dire, a parte i miei presidenti, che sono terziani, farsetti, massetti, il mio presidente è anche Severini, la prima idea del museo è nata con lui, il mio presidente è Ferretti, perché comunque fra tutte le diatribe varie lui ha sempre appoggiato l'idea del museo, anche con atteggiamenti pesanti. E quello che arriva sarà il presidente del museo, cioè nel senso che, visto poi che è un costruttore meglio di lui, questo sarebbe capitato proprio ad hoc in questo momento qui. Non avremo modo di conoscerlo domenica. Potrebbe nascere, visto che è così, anche viscerale sembra. Anche perché se parla di bomba atomica e noi si fanno al museo, prima di andare a spendere soldi, dincelo. Stefano, finalmente siamo contenti, allora ringraziamo anche a vostro nome l'assessore Tiziana Risini, che insomma si è presa veramente a cuore, tra l'altro è la seconda volta che la ringraziamo, perché abbiamo fatto anche il caso delle case popolari di Palazzo del Piero, e proprio in questi giorni ci sarà l'inaugurazione, ora c'è il museo. Noi ti dico, ha dimostrato un impegno fra mille difficoltà e fra il fatto che fino all'ultimo ha messo i bastoni fra le ruote e la sua caparbietà, perché si tratta di caparbietà, ha vinto la battaglia. Questa è una battaglia vinta in premis da lei e noi siamo a rendergliene merito. Grazie Stefano, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie a voi di cuore. Ci vediamo domani.